Alcuni ragazzi del circolo elettricisti illuminati come Vincenzo fanno parte del percorso Masterlux. Oggi Vincenzo mi ha detto una bella cosa e quindi la voglio condividere con te che stai ascoltando. Invece ti volevo dire una cosa importante, ho risolto un problema da un cliente, abbiamo messo la maglia anti-roditore, quella diciamo così di ferro d'acciaio, dentro i pozzetti perché lui era attaccato dai roditori. Abbiamo risolto Alessio. Questo dopo che l'hai visto l'Illumination Days? Dopo che l'ho visto l'Illumination Days, grande, questa ho detto guarda adesso voglio provare, ma era pazzesco, era intaccato. Questo mi chiamava una volta al mese, era disperato, ho inschiumato, ho fatto questo, ho fatto l'altro e adesso sembra che l'abbia risolta. La schiuma, la schiuma riescono a roderla, la pugna di ferro fanno un po' più fatica. Comunque è grande, questa qua ho detto, questa è stata veramente un colpo da maestro, questa qua non è per tutti ecco. Bene, un bellissimo riscontro da parte di Vincenzo e anche di tutti gli altri ragazzi che hanno partecipato agli Illumination Days. E niente, voglio condividere questo momento perché mi fa davvero piacere. Ciao! Ciao!